E' l'ultima domenica sul campo del 2021 nel girone C di Serie C, ma non l'ultimo impegno ufficiale dell'anno solare, con un turno infrasettimanale già alle porte. Campo centrale per le Pugliesi è quello di Avellino, dove Zdenek Zeman torna d'avversario con il suo Foggia in una sfida che sulla carta opporrebbe due formazioni con lo stesso numero di punti. Sono 31 sul campo, anche se i rossoneri, freschi di vittoria nel derby dello Zaccheria contro la Virtus Francavilla, sono a quota 27 a causa della penalità da meno 4 rimediata in stagione. Per il Boemo sarà una tappa di ritorno dopo l'esperienza della Serie B 2003-2004, chiusa con la retrocessione ma anche con il lancio di giocatori poi rimasti per anni nell'orbita dell'A, come Kutuzov e Nocerino. Sarà una sfida tra formazioni che alla lunga hanno lottato la scorsa annata per il salto di categoria in D, quella tra Taranto e Picerno. Fresco è il sorpasso in classifica dei rosso-blu di Colucci, ora in zona play-off su quelli di la terza, reduci dal K.O. nel derby di Bari e a caccia di una vittoria che manca da tre giornate. Chiude il girone di andata in casa anche la Virtus Francavilla. La formazione di Roberto Taurino vuole arrivare al giro di Boa a quota 30 punti ma per farlo dovrà superare in casa una Juve Stabia reduce da un convincente Trissal Potenza. I Lucani di Trocini, penultimi con 15 punti alla pari con la Fidelisandria e a più due sulla coppia di coda Messina-Vibonese, ospitano un campo basso in calo al Viviani. Fischio d'inizio per tutti alle 14.30.